Far risplendere, oh Signore, il tuo volto sul tuo servo, insegnami i tuoi decreti, insegnami la via del perdono. Dal Vangelo di Matteo, il capitolo 18. Quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse, Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo il Regno dei Cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto a lui con la moglie, i figli e quanto possedeva e così saldassi il debito. Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo, restituisci quello che devi. Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo, abbi pazienza con me, ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse, salvo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te. Stegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. La domanda di Pietro quante volte dovrò perdonare è una domanda a cui Pietro già doveva conoscere la risposta. Nel padre nostro Gesù aveva già insegnato che la frase, la richiesta rimetti a noi i nostri debiti, aveva però come continuazione come noi le rimettiamo i nostri debitori e Gesù aveva detto se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete agli uomini neppure il padre vostro perdonerà le vostre colpe. Gesù risponde al numero 7, Pietro aveva immaginato 7 volte come possibilità di perdono, Gesù risponde moltiplicando 70 volte 7, cioè indicando la pienezza, deve perdonare sempre e spiega questa regola del perdono con una parabola, quella del re che condona un debito immenso, un dono che quel servo non poteva assolutamente restituire, era destinato al carcere. Certo nella preghiera lui dice abbi pazienza, ti restituirò, ma sa benissimo che non potrà mai restituire quel debito, il padrone impietosito a pazienza, non soltanto a pazienza, gli condonò il debito. Noi sappiamo che la legge stabilisce che il debito sia restituito, è dovere di giustizia che un debito sia pagato e se per debito si intende un male che ho ricevuto è giusto che il colpevole risarcisca il male compiuto o almeno venga punito per il male che ha fatto. Ma la legge in se stessa non è sorgente di vita, la legge può provocare morte quando viene intesa solo come principio di vita, i rapporti infatti retti solo dalle regole non stanno in piedi, non reggono, perché c'è il male in noi, c'è il peccato e quindi la legge provoca divisione. Nella logica del regno di Dio il peccato, ciò che divide, può invece essere trasformato, Dio lo trasforma. Per esempio il peccato, il debito che noi abbiamo appunto verso Dio, quel debito immenso che noi abbiamo verso Dio, può essere ciò che ci avvicina a lui, ci fa crescere nell'amore. Gesù a Simone, il fariseo, mostrando la peccatrice che gli lavava i piedi, indica, vedi questa, siccome gli è perdonato molto, ama molto, il peccato perdonato può diventare strada per crescere nell'amore. Questo dovrebbe vendicare la prima parte della parabola. Quel servo graziato doveva crescere nell'amore, imparare ad amare come lo aveva amato il suo padrone. Ma la parabola ricorda che il perdono ricevuto deve rendere grato il cuore, lo deve rendere disponibile al dono. Il perdono ricevuto ci aiuta ad amare come Dio ci ha perdonati e Dio ci ha perdonati a caro prezzo, ha rimediato al nostro debito enorme donandola a voi la vita. La croce è il valore, è il prezzo del riscatto, un prezzo immenso che Dio ha pagato per noi. Se perdonate da Dio siamo chiamati a perdonare, così amiamo come ama Dio, così si supera la legge, così non si è schiacciati dalla legge che provoca morte. Come il perdono ci fa crescere nell'amore verso Dio, così il perdono tra di noi ci fa crescere come fratelli, come comunità. Ecco dove sgolga la responsabilità del perdono, la seconda parte della parabola. La regola del perdono è la gratuità che richiama però una responsabilità, come già aveva detto il Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non c'è un perdono che elimina la nostra responsabilità, il perdono che Dio ci dà ci chiama la responsabilità verso i fratelli. Perdonato non puoi non perdonare, graziato non puoi non graziare e questo non in base a una nuova legge ma alla logica del perdono. Se non la vivi non la puoi chiedere. Il tuo comportamento e la tua durezza può bloccare l'amore di Dio. Quindi ciò che ci allontana da Dio, che è il nostro debito, può essere perdonato, può essere la via attraverso la quale noi sperimentiamo il perdono di Dio, ma è il credito, cioè quello che gli altri ci devono, che può diventare occasione di scandalo perché non riusciamo a perdonare. Chiediamo al Signore, riconosciuti, graziati da Dio, impariamo a far grazie. Amati da Dio gratis, impariamo ad amare gratis. Così si instaura il regno di Dio, così i rapporti cambiano. È la logica del perdono ciò che salva. Ti benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata.